Scendendo dal tetto, sostanzialmente due strade, da una parte c'è l'onorevole Galanna che dice se viene votata la decadenza da senatore Silvio Berlusconi a quel punto si va al voto perché non è possibile fare altre strade, meglio andare pur con una legge orrida però l'unica strada è quella. Da un'altra parte c'è anche la parte dissidente del Partito Democratico, ottimamente rappresentata dal sindaco Emiliano, che dice no, prima dell'ipotesi Porcello, mandare al voto c'è un'altra strada, che è la strada del cosiddetto governo di scopo, non un letta bis, ha tenuto a specificare Emiliano, ma un governo di scopo con la famosa figura autorevole di riferimento che può essere Rodotà come Zagrebeschi, l'ipotesi Flores d'Arcaise che noi abbiamo scritto più volte sul giornale, che faccia due o tre cose con l'appoggio del Partito Democratico, ammesso che ci stia, di SEL e Movimento 5 Stelle, anzitutto legge elettorale nuova e poi 2014-2015 dice andiamo al voto. Le chiedo, ti chiedo, perché voi preferite avere del tuo, cosa vuole di più il Movimento 5 Stelle? Vince la parte, perdonami la semplificazione, ortodossa, e cioè pur di cambiare tutto è meglio andare al voto con una legge che voi combattete prima ancora che nascesse il Movimento 5 Stelle, cioè dal primo Vaffadei del 2007, o c'è l'ipotesi di dialogare anche solo per fare una legge elettorale con un governo di scopo, con quello che vuoi tu. Grazie, prima di tutto buongiorno a tutti e scusate del ritardo. Avrei preferito arrivare qui ieri sera e poi venire qui al dibattito, ma fino a ieri sera siamo stati impegnati per la questione della Costituzione che è tra l'altro una battaglia che seguiamo e condividiamo con il Fatto Quotidiano, uno dei giornali che si sta spendendo di più su questo tema. Io credo semplicemente che gli scenari veramente sono tantissimi in questo momento, se però mettiamo un punto fermo allora si riducono. Il punto fermo qual è? Il Presidente della Repubblica, il quale in questo momento ha gran parte delle decisioni nelle sue mani, in che senso? Nel senso delle sue prerogative, senza altro, non voglio dire nient'altro, però sia chiara una cosa, se cade il Governo Letta, noi una legge elettorale la possiamo fare comunque, non c'è bisogno di lanciarci in idee di governi e contro governi, perché io vi ricordo che nei primi due mesi di questa legislatura noi abbiamo liquidato i debiti delle pubbliche amministrazioni alle imprese, che avevano con le imprese, con un Governo in carica per gli affari correnti e una commissione speciale che fece solo questo. Poi abbiamo eletto il Presidente della Repubblica e in base all'elezione del Presidente della Repubblica si è creato il Governo Letta. Noi sei mesi fa dicevamo invece, mentre non eleggiamo il Presidente della Repubblica, facciamo magari una legge elettorale, vediamo di trovare le maggioranze in Parlamento, perché fino a prova contraria siamo una democrazia parlamentare e non presidenziale, anche se di fatto stiamo diventando una democrazia presidenziale, e ce ne andiamo a votare dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, magari eleggendo una persona nuova che prende in considerazione magari se ci sono i presupposti per un nuovo Governo, se no ce ne andiamo a votare. Ora noi a distanza di sei mesi siamo di nuovo nella stessa condizione Andrea, cioè il punto è, cade questo Governo, io ho i miei dubbi, cade questo Governo, ci dobbiamo mettere a fare di nuovo tutto il walzer delle maggioranze, delle maggioranze possibili, dei senatori che si vendono o che non si vendono, dei partiti, delle alleanze, oppure possiamo semplicemente prendere atto che l'ultimo risultato elettorale ha dato un risultato di certo che non affida ad una forza politica o a delle forze politiche la possibilità di governare in maniera serena, allora facciamo una legge elettorale e ce ne andiamo a votare, questo dovrebbe essere il mio punto di vista. Il Movimento 5 Stelle è disponibile su questo, tra l'altro al Senato da martedì inizia la discussione sulla legge elettorale in commissione, noi presenteremo una nostra legge elettorale che per rispetto dei miei colleghi della Commissione Affari Costituzionali non posso dire al momento perché la vorremmo presentare prima di tutto ai cittadini, quindi la settimana prossima ne verrete a conoscenza, vedremo dal dibattito parlamentare cosa ne esce, di certo noi non siamo d'accordo se dobbiamo fare una legge che punta al bipolarismo in questo Paese, perché questo non è un Paese bipolarista, questo è un Paese che alle ultime elezioni si è spaccato in tre, in quattro, come lo vogliamo chiamare, quindi dobbiamo rispettare la volontà dell'elettore senza lanciarci in quel meccanismo perverso del voto utile per governabilità. Sento anche alcuni esponenti del PD e del PDL che dicono torniamo al Mattarellum, noi abbiamo fatto le simulazioni su Mattarellum, se ci fossero stati questi risultati elettorali, comunque il governo non si sarebbe potuto formare, quindi dalla discussione parlamentare io mi aspetto che comunque si crei una legge elettorale che sappia interpretare questo modello politico. Se poi invece il Presidente della Repubblica decide che a tutti i costi non vuole sciogliere le Camere, perché questa è una sua prerogativa, allora dovrà prendere in considerazione altri governi e noi stiamo dicendo da quattro mesi, ho sentito anche il Sindaco Emiliano dirlo, anche altre persone che non stanno più nel panorama politico come ex Presidente della Camera che dicevano affidiamo un governo al Movimento 5 Stelle, è un governo che in ogni caso deve basarsi su quattro o cinque punti, è comunque un governo di scopo, è un governo che deve dare la possibilità di fare quattro o cinque cose e poi andare di nuovo al voto, ma sia chiaro la legge elettorale la deve fare il Parlamento, non possiamo pensare la deve fare il governo, perché se noi affidiamo ad un governo ancora una volta come stanno facendo con la Costituzione, con un DDL costituzionale, un disegno di legge per fare la nuova legge elettorale e poi il Parlamento lo deve recepire e subire, la maggioranza parlamentare deve subire il solito ricatto del governo o state a quello che vi ho presentato o mi dimetto e ce ne andiamo tutti a casa perché questo sta succedendo in Parlamento in questo momento. Noi faremo l'ennesima legge che non è nient'altro che il risultato avuto con i decreti legge degli ultimi sei mesi, decreti legge che sono delle vere e proprie riforme di alcuni settori del nostro paese, che intervengono in alcuni settori del nostro paese con una tempestività, con una superficialità, poi io torno sui territori, incontro gli assessori dei comuni, di certo non del Movimento 5 Stelle, che mi dicono ma che state facendo lì a Roma? Qui rischiamo di far saltare i bilanci dei comuni con questi giochi che state facendo finanziari, con questi decreti, perché? Perché non c'è stato dibattito parlamentare su quei provvedimenti, i sindaci che stanno nel Parlamento hanno votato la fiducia a un mucchio di decreti su cui potevano dare un grande contributo. Le componenti di comitati per la difesa delle donne e della violenza sulle donne si sono viste fare un decreto sul femminicidio, quando loro avevano presentato fior fior di disegni di legge sul femminicidio e loro stesse hanno protestato in aula con i loro ministri, con il ministro Franceschini dicendo ma com'è ci avete fatto un decreto? Noi abbiamo chiesto addirittura una commissione speciale, una commissione di inchiesta sui casi di femminicidio. Quindi io credo che sia tutto qui, se noi ci aspettiamo sempre che dobbiamo fare un governo anche per la legge elettorale, ricadiamo nello stesso loop di febbraio e marzo. Se invece veramente vogliamo prendere atto della situazione di questa Italia, che possiamo elencare le assurdità in cui ci troviamo in questo momento, una legislatura che è sicuramente la più anomala della storia del nostro Paese, che addirittura si sta permettendo di mettere mano alla Costituzione in un momento in cui la Costituzione non bisognerebbe proprio toccarla, se non fosse che questa maggioranza è minacciata ogni giorno da un condannato per frode fiscale, quindi se non fosse solo per questo, ma c'è tanto altro, se noi vogliamo rientrare in questo loop passiamo altri tre mesi, altrimenti andiamo a votare possibilmente dicendo al Presidente della Repubblica dacci 20-30 giorni dopo la caduta del governo, formiamo le maggioranze in Parlamento su una nuova legge elettorale e le maggioranze non devono essere tra partiti, ma tra deputati che tengono a cuore la volontà politica di fare una nuova legge elettorale e poi ce ne andiamo a votare, poi si vede, poi i programmi, il consenso, i risultati, questi li misuriamo sul campo tra i cittadini e valuteranno anche il Movimento 5 Stelle come si è comportato in Parlamento negli ultimi sei mesi. Grazie. 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 Grazie.